...desso nello spazio dedicato ai musicisti, l'organitista Marco Corrias, perché deve accompagnare un gruppo che abbiamo visto stamattina in occasione della sfilata ed è il gruppo che rappresenta il capoluogo barbaricino, quindi Nuoro è il nome di questa associazione, Gruppo Folk Ortomene e noi li vorremmo avere subito qui in scena per poterli salutare, per poterli dare il più caloroso benvenuto alla festa a San Vesta, così la chiamiamo molto confidenzialmente e il gruppo Ortomene ci propone il ballo su Torrao, che chiamiamo più semplicemente Balluserio e che poi a un certo punto della sua evoluzione coreutica cambia ritmi e tempi per dare un passo differente quindi viene, come dire, zirato a balluntudo, antico, come nella espressione del ballo popolare, proprio di piazza e sarà bello, insomma, sentire il suono di accompagnamento, ma soprattutto vedere l'evoluzione di questo ballo con uomini e donne che vestono l'abbigliamento tradizionale di Nuoro quindi il gruppo Ortomene, ballu zeniu, ziraua, ballu tondo, antico e la chiamiamo più grande Grazie a tutti. 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 Grazie.